Ciao, sono Leonardo, vengo da Roma, ho 17 anni, sono qui all'incirca dopo quattro mesi dopo l'intervento. Ho deciso di operarmi alla clinica Pallauro perché informandomi sul web l'ho trovata veramente molto all'avanguardia e con recensioni ottime dei clienti passati. L'intervento è andato molto bene, c'è stato solamente un gonfiore iniziale di due tre settimane che dopo è diminuito. Ho ricominciato anche l'attività fisica, quindi è andata veramente molto bene. I miei genitori sono molto felici perché per me era un problema, è stato sempre un problema che mi ha limitato molto a fare molte cose, soprattutto in ambito in sicurezza e questo intervento dopo subito averlo fatto, mentre le orecchie si sgonfiamano giorno per giorno ho preso sempre sicurezza in me stesso e adesso mi sto alla grande. Ringrazio il dottor Pallauro e il suo staff per questo lavoro e grazie al lavoro. Ringrazio il dottor Pallauro